GF VIP, audio criptico alla festa finale, Antonella mi guardava e mi diceva ciao, video. Giovedì 13 aprile c'è stata la festa finale del grande fratello VIP7. A un certo punto, sui social è stato divulgato un audio criptico in cui si sente una voce femminile parlare di una certa Antonella che la guardava e la salutava. Stando alle ipotesi di alcuni utenti del web, la persona citata potrebbe essere l'ex Geffina Fiordelisi. Ma non c'è alcuna prova che si trattasse davvero di lei. Alla festa del grande fratello VIP7 erano presenti i concorrenti e le maestranze che hanno partecipato a questa edizione. Poco dopo l'inizio del party, sui social è stato divulgato un audio in cui una voce femminile diceva, io ho avuto paura. Siccome c'era Antonella che mi guardava e mi diceva ciao ciao. E io ah ah, ma ti levi. Poi si sentono delle persone scoppiare a ridere, ma non è chiaro chi fosse la persona che avrebbe messo in soggezione il protagonista dell'audio, potrebbe essere Antonella Fiordelisi. O un'altra Antonella, che magari fa parte dello staff della trasmissione. L'audio proviene da una storia Instagram di un ragazzo che lavora Mediaset. Il diretto interessato, mentre stava riprendendo la location, ha registrato inconsapevolmente il presunto sfogo di una donna. Su Twitter, un utente ha detto, oddio non capisco chi possa essere. Un altro utente ha domandato, possibile che si emurgia. Un utente invece ha sostenuto che si trattasse dello sfogo di un'autrice e la persona citata potrebbe essere Antonella Fiordelisi. Perché pare che sia andata a salutare tutti personalmente. Tuttavia, non c'è alcuna prova che si trattasse dell'ex geffina salernitana. Secondo un utente. Invece, la voce in video potrebbe essere di Piera, la psicologa del grande fratello VIP7. La festa del grande fratello VIP7 era nel locale alla Lanterna di Roma. Tra gli ex vipponi presenti c'erano tutti gli spartani, Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli, Nicole Murgia, Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Nicolin Curvaia ed Edoardo Tavassi. Dei persiani c'erano Edoardo Donna Maria, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelezzon, Giorgio Ciupilane e Davide Donadei. Inoltre erano presenti Attilio Romita, Sara Altobello, Luca Salatino, Ginevra Lamborghini, Pamela Prati e Milena Miconi. Ai festeggiamenti erano presenti anche Matteo Diamante e Martina Nazoni. Mentre tra i grandi assenti si segnalano Antonino Spinalbeise, Patrizia Rossetti e Luca Onestini, il primo appostato per tutta la sera delle stories con la figlia. La showgirl ha detto su Instagram di avere avuto problemi di salute, mentre il terzo ha detto di avere impegni di lavoratori inderogabili. Așa-i pe tonu, underground, de 97 am dat tonu, dar nu ca Vodafonu, și acum rap-o-i moda onu. Așa-i, și zici că stom ford, la cum mă comport, întreaba asta lui loc de confort, ricord și-o mor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol, încă de când el era broke și se uza de aerosol. De când avea mol, de când nu știai ce-i miscol, de când ascultam gangsta rapper, bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună-o pe Irina Nistor, vă întâlniți în tristor, la zero grade viscol. Nu tag nici stins mort, o să m'auzi prin sol, transpir hip-a prin pori, bile mari zintori. Că știi că după trimit ciocan umane, înspre cer și dau jos carul mare.